L'abbiamo pizzicato sul carpet, Ron Johnson, ciao! Ciao! Fino a qui tutto bene? Fino a qui tutto molto bene direi, quindi siamo contenti, proiezioni stampa andate bene, quando ridono i grigi giornalisti e critici diciamo dai possiamo entrare sereni in sala. C'è già la cola che vi attende, tutto esaurito, dici soltanto come ti è nata la voglia di raccontare questa storia? Guarda, mi avevano chiesto di fare un documentario all'Università di Pisa, abbiamo iniziato a fare delle interviste agli studenti e studentesse e ci hanno iniziato a raccontare sia aneddoti e storie buffe che gli capitavano vivendo insieme agli altri amici, sia ci hanno trasmesso una sorta di volontà di non arrendersi, erano coscienti della crisi, il futuro eccetera, però invece di lamentarsi la prendevano con rinoronia e dicevano noi non ci arrenderemo, piuttosto farò le cose che mi danno gioia, le cose per cui ho passione, piuttosto me le faccio da sole, ma non mi arrendo e quindi da lì l'abbiamo preso in parola, abbiamo preso questa eredità e abbiamo fatto il film libero, divertente, indipendente che ci piaceva fare. Quindi un bel messaggio da dire non mollate, andate avanti, resistiamo, ce la possiamo fare. Assolutamente sì, fino a qui tutto bene. E allora adesso ti lasciamo andare e vediamo se anche là va tutto bene con i fotografi, con i fotografi c'ho un po' più paura, però dai, invece l'importante sarà il 29 gennaio che usciamo al cinema, abbiamo già trovato una distribuzione, speriamo bene. Ciao Fan Week, ciao.